Sui fondi europei, su questa davvero quantità grossa di fondi che ci sono, che le regioni del sud fanno fatica a spendere, bisogna dire la verità. Perché nel 2015 le regioni del sud fanno fatica a spendere questi fondi? Perché per questi fondi c'è anche una quota di cofinanziamento di bilancio regionale e i tagli alle regioni non hanno consentito e non consentono nel 2015 alle regioni del sud di spendere i fondi comunitari. Però questo non lo dicono lì in Parlamento. Quando parlano di tagli non si rendono conto poi degli effetti che certi tagli hanno. Faccio un altro esempio per capirci. Si parla di taglio dell'Imu sulla prima casa, anche qui Renzi vedi i sondaggi, va giù, che cosa fa? La cosa è migliore e togliere l'Imu sulla prima casa. Ma perché sono aumentate le tasse locali? La cosa è matematica. I bilanci dei comuni sono abbastanza rigidi di fatto. Lo scuola bus c'è, cosa fai? Come fai a toglierlo? Il personale c'è? Come fai a licenziarlo? Allora, i tagli nei comuni sono questi qua, anche se si vede, si capisce abbastanza. Nel 2011 era un miliardo e mezzo il taglio ai comuni, con Renzi si è arrivati a 8 miliardi e 3, quindi da 1 e mezzo a 8 e 3. Se tagli, cosa succede? I comuni alzano le tasse sulla casa. Le tasse sulla casa sono passate da 9 e 8 a 25, però attenzione, 25 nel 2014. Quindi quando si citava la Corte dei Conti ci si dimentica dell'anno in corso. Nel 2015 i comuni alzeranno tutti molto pesantemente le imposte sulla casa, sulla seconda e sui capannoni, perché debbono assorbire l'altro miliardo e due di tagli di Renzi. Ecco, questo ci si dimentica. Quando si fanno i tagli, cosa buona e giusta, bisogna ragionare per farli in maniera non lineare. Se li fai in maniera lineare senza considerare gli effetti, alla fine è peggio il tappo del buco, perché dopo si traducono in aumento di imposte.